Buonasera a tutti, sono Francesca Poglio e sono il primo oratore della squadra Pro. Innanzitutto vorrei rispondere ad un'argomentazione della squadra avversaria. Qui non si parla di nuovi comuni, noi presentiamo dei dati. Voi avete parlato di non lasciare delle persone in una situazione di difficoltà. Assolutamente noi non abbiamo mai pensato di lasciare queste persone in difficoltà. Anzi, noi vogliamo proporre un intervento concertato da parte dell'Europa la quale può andare a favorire una stabilizzazione politica dei posti da cui provengono principalmente i flussi migratori. E oltre a questa stabilizzazione politica possiamo andare a favorire la costituzione di un sistema democratico, ad esempio, attraverso la diffusione di culture e di istituzione, uno sviluppo agricolo, uno sviluppo in termini economici di piccole imprende, grazie ad esempio il microcredito oppure gli investimenti congiunti. Bene, avete parlato poi di problemi economici. Veniamo ora ai costi. L'immigrazione sicuramente porta costi dal punto di vista, come ho già detto, umani, altissimi. Si parla di persone che sono costrette a perdere la loro vita oppure a famiglie che si trovano separate per un lunghissimo periodo, se non addirittura per sempre. Si parla poi anche di costi economici. Veniamo ad esempio i costi dell'immigrazione clandestina. Questa sicuramente ha dei costi altissimi. Sicuramente nel controllo, nel riferimento dei profumi, Mare Nostro, Mare Pesto, l'Italia, di pagare addirittura oltre 2 milioni di euro che l'Italia si è trovata a spendere completamente da sola, abbandonata dall'Europa. E abbiamo poi la gestione dei centri di accogliezza. Ma l'Italia deve trovare tutti questi costi e tutti questi soldi. Ci troviamo in un periodo di crisi. Di conseguenza siamo costretti a fare delle scelte. Per trovare questi soldi potremmo, ad esempio, ridurre i servizi degli ospedali oppure ridurre il numero di docenti all'interno delle scuole. Siamo costretti a fare delle scelte. Abbiamo poi i costi legati agli immigrati e coloro che entrano nel nostro paese legalmente. Bene, queste persone, come avete detto, portano nel breve termine e danno nel breve termine un apporto positivo all'economia italiana. Questo è vero. Nel breve termine questi bilanci infatti non tengono conto del futuro. Se fossero lungimilanti sarebbero costretti a tenere conto di quello che è il debito assistenziale e pensionistico che noi stiamo accumulando nei confronti di queste persone. Ora, il vero punto è, l'Italia ha davvero così tanti posti di lavoro disponibili per gli italiani? Tutti gli italiani hanno un'occupazione? Oppure ci sono moltissimi cittadini che hanno bisogno di un'occupazione e la stanno cercando senza trovarla? Bene, secondo noi è la seconda. Ci troviamo nella seconda situazione. Ci sono, di conseguenza, mi ricollego al discorso del nostro capitano, un paese non dovrebbe tutelare il primo luogo i propri cittadini. La Francia, ad esempio, lo fa. Vige in Francia una normativa che porta un dottore di lavoro ad assumere un cittadino francese nel momento in cui non ci sia un cittadino francese disponibile per quel terminato lavoro e, in secondo luogo, potrà assumere un cittadino dell'Unione extraeuropea nel momento in cui non ci sia un cittadino europeo disponibile. Per ora, chiedo voi, non sarebbe meglio se gli immigrati venissero in Italia non per necessità, ma per la loro scelta, perché a fronte di venire gli immigrati la nostra potrebbe essere veramente una vera e propria accoglienza. Grazie per l'attesa.